Sostenere la conoscenza dell'olio per approfondire gli studi che si stanno svolgendo. Per gli studenti dell'ITS Turismo Roma è fondamentale formarsi ancora meglio in modo da fornire supporto una volta che si entra nel mondo del lavoro. Com'è questo corso di sommelier dell'olio? È molto interessante, sono curiosa di scoprire cosa faremo adesso. C'è anche un imprenditore balneare di Focene qui al corso di sommelier, come mai? E per specializzarmi in maniera dettagliata sulla ristorazione, sull'attività turistica. Non solo per saperne di più, ma anche per avere maggiore conoscenza del settore olivicolo dal punto di vista professionale. A fianco al vino, oggi e doverosamente sulle nostre tavole, fa grande spolvero la presenza dell'olio. E finalmente l'olio non è più soltanto un alimento grasso, ma ha acquisito una dimensione, una sfaccettatura che lo pone proprio alla ribalta dei grandi prodotti gastronomici. Questi ragazzi frequentano questi corsi per accrescere la loro cultura nel campo della ristorazione, dell'accoglienza in generale. E comunque devo dire, specialmente per i nuovi corsi che abbiamo aperto a Fiumicino e Civita Vecchia, ho trovato delle persone veramente interessate. Qualcuno già opera nel settore, vuole mettere su una nuova azienda di variotipo e genere e comunque la ristorazione sta avendo veramente un boom. Per te è una scoperta unica? Assolutamente, assolutamente.